Sono sulla lista nera. Ma a parte questo ti senti bene? Mi sento uno straccio. Ma in salute stai bene a parte l'ulcera? Non vogliono più i miei copioni. Sono sulla lista nera, sai che significa? È una lista di nomi che hanno tutti gli studi, le reti televisive. E se sei sulla lista sei fregato, non lavori. Ma perché ti hanno messo sulla lista nera? Sono un simpatizzante comunista. Oh, ma se lo sei sempre stato? Beh, adesso è una cosa che non sta bene. Mi serve un prestanome, Howard. Nessuno lo saprà mai, solo io e te. Quando incominciamo? Aspetta un momento, è meglio che tu sappia bene di che si tratta. Che tu vuoi mettere il mio nome sui tuoi copioni? Ma non è tanto semplice. Io scrivo i copioni e li mando loro col tuo nome e loro li comprano, va bene? Perfetto. Poi vorranno conoscere l'autore. E con questo? Ci dovrai andare, far la parte dello scrittore. Va bene, la farò. Che c'è di difficile? Hai mai visto una informazione comunistica in alcuni scrittori? Well, I've turned down quite a few scrittori because I thought they were tinged with communistic ideas. They haven't attempted to use me, I don't think, because apparently they know that I'm not very sympathetic to communism. There has been a small group within the Screen Actors Guild which has consistently opposed the policy of the Guild Board and Officers or the Guild itself as evidenced by the vote on various issues. That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we associate with the Communist Party. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. Dieci testimoni, i dieci di Hollywood, si oppongono al diritto della Commissione di fare domande sulle loro opinioni. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of America. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his... Then you denied, then you... Then you denied, you refused to answer that question, is that correct? I have told you that I will refer my beliefs, my affiliations and everything else to the American public and they will know where I stand as they do from what I have written. Stand away from the stand. Stand away from the stand. Fight for the Bill of Rights which you are going to destroy. I will take this man away from the stand. One Communist on the faculty of one university is one Communist too many. One Communist among the American advisors at Yalta was one Communist too many. And even if there were only one Communist in the State Department, even if there were only one Communist in the State Department, that would still be one Communist too many. Altri appartenenti all'industria cinematografica dimostrano il loro appoggio ai diritti costituzionali dei Dieci. It is not molecular. It is. It is. Anyway... It is. It is. It is. Soft and soft. la scena dissolvenza no perché so che gli americani la dissolvenza la mettono anche in mezzo alle scene scrivi non ci frega niente dove gli americani mettono la dissolvenza punto